Buongiorno, argomento? Oggi voglio tornare un attimo sul fattore che ieri ho fatto quel video su Berlusconi che secondo il mio punto di vista si è fatto invernare. Tanti mi hanno detto, eh ma Berlusconi ha 87 anni, cioè ti pare quello se risvegliare e ritornare vecchio come era. No, non è così, non funziona così, perché quando stanno facendo questi test di laboratorio con dei topi, hanno fatto un test di laboratorio che ho visto, due topi, nascono lo stesso momento, sapete che i topi che hanno un paro massimo 4-5 anni, il topo che aveva 4 anni era invecchiato, il topo che aveva 4 anni, guarda il fratello, era giovane, era rimasto giovane, è rimasto giovane, ok? Quello col pelo che se lo perdeva, i denti che insomma era tutto, era invecchiato. Quell'altro invece è rimasto giovane, Arzillo che cammina, che si muove bene. Test fatti con i topi del laboratorio, in futuro sarà fatto con gli esseri umani, tipo quegli imbecilli che scrivono qua sotto. Quando vedono il potente intellettivo delle persone che era incoglionita, lo prendono, lo pigliano, come topo dal laboratorio, un giorno non ci sarà più il fattore che l'essere umano, tu stai così, no, quelli che saranno i coglioni, scarteranno, già è previsto, gli imbecilli saranno scartati tutti o saranno portati su altri sistemi stellari, perché quello che stiamo facendo, quello che è stiamo facendo, e cercare altri pianeti, quello che vedete, chi si informa lo sa, stiamo cercando altri sistemi planetari perché vogliamo colonizzare questi sistemi qua, questi sistemi stellari, no? No. Queste cose sono scientifiche, perché... Perché lei non ha studiato? Io mi sono informato, purtroppo non mi ho informato, non è colpa mia, non è colpa mia perché siete encefalitici, purtroppo l'ho sempre detto. Io ho mandato via sei persone oggi, gente che si era preoccupata comunque molto più di lei. Questo è quello che succede in Italia, perché lo studio in Italia non funziona, una volta chi aveva la quinta elementare era come un laureato di oggi, la quinta elementare di 50 anni fa, è come un laureato di oggi, la stessa cosa. Cioè, un laureato oggi non capisce il cazzo. Cioè, io penso a una cosa, chi ha fatto la quinta elementare manteneva una famiglia di cinque persone. Oggi un laureato da solo manco riesce a mantenersi da solo, pensa come stiamo. Hai capito com'è la differenza? Perciò quella è una questione di capacità intellettiva, cosa che non c'hanno. Fuori di qui, per favore. Matto, per scemo, piatemi per matto, piatemi per scemo, dite che ho bevuto, mi sono briagato, voi fate, dite tranquillamente, tranquillamente. Fate, poi un giorno, chi mi ricorderò che mi avrà preso per culo, magari che è, verrò sulla vostra tomba e ti piscerò sopra, ti piscio sopra, guarda, poi ti annaffio pure così a meno che risorgi come uno stronzo. Hai capito? Ti piscio sopra, così a meno risorgi. E ti dicono, piateli under culo, coglione. E chiudi la porta quando esci. Fanculo, vaffanculo, merda. Vaffanculo tu.